Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha parlato di un'opera strategica e importante per la città dopo anni d'attesa, completato l'iter per la tangenziale Nord, ha detto dopo che l'Aula di Palazzo San Giorgio ha approvato il progetto definitivo per realizzare l'infrastruttura finanziaria per circa 18 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. 16 voti favorevoli, tra cui gli esponenti della coalizione civica Piloni e Casolino, contrario Gino Di Bartolomeo e astenuti i 5 Stelle. L'Aula ha poi dichiarato l'opera di pubblica utilità, dando subito l'ok anche alla variante urbanistica. La deliberazione è stata quindi inviata alla Regione affinché si approvi la variante, per esprimersi a disposizione 60 giorni. Non è stata però votata l'immediata eseguibilità dei lavori. Dalla maggioranza, e in particolare Battista e l'assessore Maio, sono però ottimisti sui tempi. Stiamo dialogando con l'ANAS anche per quanto riguarda la costruzione degli svincoli su cui sono state sollevate perplessità. Hanno evidenziato poi ricadute definite positive che la realizzazione della tangenziale Nord avrà anche sulla circolazione delle vetture che arrivano a Campobasso dai comuni della Cinta e dal resto del Molise. Si dà il via, hanno detto ancora, a un'opera attesa da tantissimi anni che porterà sviluppo economico e sociale nel capoluogo senza trascurare anche il risvolto positivo che avrà sull'ambiente e sulla salute pubblica. Il Movimento 5 Stelle ha manifestato dubbi, ad esempio su alcuni collaudi, tempi di consegna e rendicontazione e sul fatto che ci siano dei ricorsi. C'è da rispettare il termine del 31 dicembre appena la revoca del finanziamento. I lavori saranno avviati quest'anno, si legge nella nota inviata dalla Segreteria del Sindaco e dovrebbero essere completati sempre entro il 2018, così come da convenzione, ma non si escludono solo se necessarie eventuali proroghe.